Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Infipili per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone, due chilometri di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Per quanto riguarda le autostrade, in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Sesto Fiorentino ed il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Si ricorda che la statale 330 è chiusa, in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!